buongiorno a tutti allora magliettina come sempre del rituale della felicità eccola qui magliettina della settimana e partiamo subito perché dobbiamo parlare delle squadre che si qualificheranno alle semifinali alle 18 c'è svizzera spagna poi c'è italia belgio aiuto aiuto arriva il lupo poi c'è domenica c'è domenica sabato c'è repubblica cieca danimarca e poi ucraina inghilterra partiamo con svizzera spagna poi dopo vi farò il video sui miei sulle mie previsioni che avevo fatto per gli ottavi che sono andati non male non poteva andare molto peggio comunque partiamo con svizzera spagna allora come vi ho già detto questa è la prova del 9 per la svizzera è un po come nel tennis ve l'ho già spiegato quando un giocatore normale diciamo con una classifica 30 40 50 del ranking elimina la testa di serie numero uno del torneo a wimbledon a flash in middle a roland garot e banca cosa manca wimbledon flash in middle roland garot australian open ecco a uno slam c'è quello che non ti aspetti che che ti elimina il il federa della situazione gli occo vicini della situazione non dal della situazione il turno successivo affronta una squadra un giocatore no se parliamo di tennis sto facendo il paragone che è più o meno al suo stesso livello nel caso della svizzera magari ni perché la spagna sulla carta è leggermente più forte ma rispetto a una francia capite che la francia rispetto alla spagna sia un attimino più forte quindi tu hai eliminato la testa di serie numero uno adesso affronti la testa di serie numero sei numero sette e la svizzera la possiamo considerare all'interno di questa la numero 14 la numero 12 quindi comunque affronta un'avversaria come la spagna che sulla carta inferiore sicuramente alla francia però contro la francia la svizzera ha fatto un mezzo miracolo quindi adesso bisogna vedere come arriva questa sfida se arriva pagata che diceva beh ormai il mio l'ho fatto chi se ne frega o se entra con la stessa cazzimma che con cui ha giocato contro la francia perché se la svizzera gioca con la stessa cazzimma con cui ha giocato contro la francia la spagna la può battere se gioca come si suol dire col braccino perché adesso capite che adesso c'è l'occasione no affronti un'avversaria quasi alla tua pari e magari hai più un freddino prima di te con la francia si è entrato in campo e ce la giochiamo e vediamo cosa succede adesso magari quindi non lo so io vedo vedo una partita con gol sicuramente dove la spagna è leggermente favorita ma ripeto se la svizzera gioca con la stessa cazzimma con la francia può vincere e quindi ci vede una partita molto molto equilibrata che potrebbe anche andare ai supplementari o anche il calci di rigore dipenderà molto da come entrerà in campo con che mentalità entra in campo la svizzera veniamo a italia belgio qua ragazzi miei aiuto mi è volato il bigliettino sono dolori sono dolori perché ho visto che gioca De Bruyne se non giocavano né Hazard né De Bruyne vi dicevo l'Italia vince facile perché non c'è nessuno che poi innesca il Luca Cone se gioca De Bruyne De Bruyne è il giocatore che ti innesca il Luca Cone e il Luca Cone non è facile da tenere per i nostri difensori che non vorrei che comincino a fare troppi falli e poi rischiamo di fare la fine che abbiamo fatto con l'Olanda di rimanere in dieci perché gli arbitri inglesi cioè chiunque arbitrarà arbitrarà l'europea e certi falli cominciano a tirar fuori i gialli come se piovesse e allora vi dico che è una partita molto equilibrata e a questo punto forse è un 51 belgio 49 Italia ma siamo lì e potremmo potrebbe potremmo andare ai supplementari come con l'Austria e se si va ai supplementari poi il buon De Bruyne mi sa che deve uscire dal campo perché non ne ha tenete conto non si è allenato si è allenato a parte eccetera eccetera quindi entra in campo che non è al 100% avrà benzina per 70 minuti poi mi sa che dovranno sostituirlo se l'Italia riesce a tenere bene fino al settantesimo così poi potrebbe anche farcela quindi però ripeto se non giocava a De Bruyne mi dicevo vi incominciamo non dico facile ma ce la facciamo così è più dura però sono ottimista dai sono ottimista vedo una partita come con l'Austria che potrebbe andare ai supplementari e poi vediamo che succede non mi smilancio stavolta anche se ho un po' più paura Repubblica cieca Danimarca io sono fiducioso della Danimarca guardate ragazzi io la Danimarca la vedo la vedo in finale non so perché poi mi sbaglierò quindi punto sulla Danimarca sicuramente e vediamo cosa succede vediamo cosa succede vediamo se c'è zecco perché anche la Repubblica cieca sta facendo un mezzo miracolino ma diciamo che ha sfruttato con se non erro con con l'altra squadra il fatto che sono rimasti 10 se non sbaglio no aveva vinto nettamente con l'Olanda è vero 2-0 con l'Olanda sì ma sono rimasti 10 gli olandesi perché fino a quel momento lì avevano comunque dimostrato di aver giocato meglio poi Malen si è mangiato il gol sbagli il gol e poi resti 10 ciao quindi io penso Danimarca mentre invece Ucraina e Inghilterra qua credo che non ci sia nulla da dire temo che l'Inghilterra se la mangia l'Ucraina del buon scema però siccome il pallone è rotondo eccetera se l'Ucraina mi fa la sorpresa libidine io sono felice non è che mi dispiacerebbe una semifinale da Danimarca ucraina sarebbe veramente libididosa anche perché così tornano a casa con le orecchiette basse però la vedo dura credo che l'Inghilterra andrà a giocarsi con la Danimarca alla finale detto questo ragazzoli fatemi sapere voi cosa ne pensate spero che questo video sia online prima delle 18 sono le 3 del pomeriggio quindi spero che i criceti ce la facciano e ci vediamo al prossimo video in cui vi parlerò di come sono andate le mie previsioni per questi quarti di finale che devo dire non sono andati malaccio ciao